L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Speria TV. Il virus frena la sua corsa, non bisogna passare la guardia. Sono tanti però ancora gli over 50 che non sono vaccinati, nonostante l'obbligo di legge. Stavolta non siamo ultimi in classifica. La Calabria al primo posto per la percentuale di studenti in presenza. Il dato del Ministero della Pubblica Istruzione. 400 mila euro in contanti, orologi di valore, gioielli, sono stati scoperti in un garage a Torino e il tesoro dell'additante Vittorio Raso, boss di Indrangheta. Compra un gratta e vince e porta a casa ben 5 milioni di euro. È successo a Crotone, al Bartabaccheria Gerace. Complimenti all'anonimo vincitore. Il grande teatro, Amanda Sandrelli in scena con l'Isistrata di Aristofane, la pièce La Mezza Eterna e Catanzaro per Ama Calabria. Bentrovati sul 18 per l'informazione regionale di Speria TV, edizione di sabato 29 gennaio 2022, in apertura del Covid. Diciamo pure e subito che è grave una bimba di due anni ricoverata in rianimazione all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. La bimba è arrivata in condizioni critiche direttamente dalla PET di Mesoraca, siamo nel Crotonese, per gli effetti severi dell'infezione da coronavirus. Il quadro difficile ha suggerito il trasferimento della piccola al nosocomio di Catanzaro, dove i sanitari hanno proceduto immediatamente prima di intubarla e poi a ventilarla artificialmente. Le condizioni potrebbero spingere ad un nuovo trasferimento in una struttura più specializzata. La pagina dei contagi, facciamo il punto con questo servizio. Rallenta la corsa del Covid-19 in Italia ed anche nella nostra regione. I contagi stanno diminuendo grazie alla massiccia campagna di vaccinazione che prosegue senza sosta e che nelle ultime settimane è concentrata soprattutto nella fascia under 12. In Calabria, intanto, il tasso di positività è sceso al 15,28%. A preoccupare però è l'alto numero di decessi. Nella nostra regione, complessivamente, da domenica 23 a venerdì 28 gennaio, sono stati 70, per un totale da inizio pandemia che arriva a 1.852 vittime. Dopo oltre tre mesi scende, per la prima volta sotto la soglia epidemica dell'Unità, l'indice di trasmissibilità RT e continua a diminuire anche l'occupazione dei posti letto per pazienti Covid negli ospedali. Sono dati che, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, inducono ad un cauto ottimismo. Un dato negativo arriva però dai dati della sorveglianza integrata Covid-19, aggiornati al 26 gennaio, che evidenziano come non si arresti la crescita di casi di Covid-19 tra medici, infermieri e altri lavoratori della sanità. Attenzione puntata anche, se ne sta occupando la Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sui criteri di utilizzo del medicinale Paxlovid, medicinale antivirale orale per la cura del Covid-19 dell'azienda Pfizer. Il farmaco, che sarà disponibile dalla prima settimana di febbraio, si è dimostrato efficace nel ridurre dell'88% il rischio di ospedalizzazione e morte. Il trattamento con Paxlovid deve essere iniziato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi per 5 giorni. E dobbiamo pure dire che sono quasi 1.700.000 ancora gli italiani che hanno più di 50 anni e ancora non si sono vaccinati, nonostante l'obbligo previsto dal decreto legge del 7 gennaio scorso. Quanto emerge dall'ultimo report del Governo sulla vaccinazione aggiornato a questa mattina? Complessivamente sono 1.684.240 coloro che non hanno fatto la prima dose e di questi la maggioranza oltre 1.200.000 persone nella fascia tra i 50 e i 69 anni. Negli ultimi 7 giorni, sempre in base al report, sono poco più di 170.000 gli over 50 che hanno fatto la prima dose, mentre da quando è entrato in vigore l'obbligo sono poco più di 480.000. Con una percentuale del quasi 93%, la Calabria è la prima regione per numero di studenti in presenza. Il dato arriva dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Calabria è la regione con la più alta percentuale di alunni in presenza. A dirlo è il Ministero dell'Istruzione in base ai dati del monitoraggio disposto per seguire l'andamento dell'emergenza Covid e di relativi impatti sulla scuola. Rispetto ad una media nazionale dell'81,9% di alunni in presenza, la regione in cima alla classifica è proprio la Calabria, con il 92,7%, a seguire Molise e Sicilia. Il Sud finalmente, dice la vicepresidente della Giunta regionale Giussi Princi, si distingue per disciplina e forza organizzativa. Le strategie messe in atto dalla Presidenza Occhiuto nel corso del mese di gennaio sortiscono questi effetti che balzano agli occhi di tutta Italia, ottenuti anche grazie al gioco di squadra della grande macchina organizzativa regionale che si è occupata di vaccinazioni mirate soprattutto agli under-12. Nel sottolineare il lavoro delle istituzioni scolastiche e nel mettere in atto i protocolli di sicurezza anti-Covid, Giussi Princi rileva anche l'importante sinergia che si è determinata con l'ufficio scolastico regionale per rendere l'istruzione il volano della crescita sociale e valoriale della nostra terra. Un noto medico, ma anche da qualche tempo anche consigliere regionale, parliamo di Ferdinando Laghi, sta proseguendo il suo tour negli ospedali soprattutto della provincia di Cosenza. L'esponente della lista Dema Presidente ha fatto tappa a Trebbi Saci. Ferdinando Laghi, capogruppo dei Magistris Presidente al Consiglio regionale della Calabria, continua gli incontri con le istituzioni e gli operatori sanitari per acquisire informazioni e scambiare idee nel campo della sanità e anche per illustrare la proposta di riordino della sanità calabrese che prevede la suddivisione del territorio regionale in 11 aziende sanitarie locali, quante erano prima dell'accorpamento in aziende provinciali. E così dopo Castrovilla riaincontrato presso l'ospedale di Trebbi Saci il commissario prefettizio Carlo Ponte. Guardi, io sono davvero stupito per la verità dalla unanimità di consensi che mi arrivano su questa proposta da parte degli operatori sanitari. Cioè chi vive la sanità giorno per giorno dall'interno mi pare che nella stragrande maggioranza non abbia dubbi su quale sia la strada da percorrere. La sanità vicino ai cittadini, quindi l'organizzazione sanitaria che sia calata sui territori e non un ulteriore accorpamento laddove anche quello attuale partito nel 2007, quindi ormai quindicennale, ha dimostrato un assoluto fallimento. Intanto l'ospedale di Trebbi Saci rientra in quei nosocomi che a febbraio saranno riaperti per fronteggiare l'emergenza Covid. I lavori sono iniziati da circa una settimana, quindi con tutte le problematiche tecniche, quindi diciamo che credo nell'arco di una settimana ancora insomma dovremmo essere a buon punto. Poi c'è la fase di allestimento del reparto e quello che ne consegue con l'organizzazione interna, poi sia arredi, personale e quindi puoi avviare ovviamente l'attività. Quindi tempi tecnici, considerando anche imprevisti poi di tipo strutturale, perché stanno facendo interventi strutturali importanti, quindi il reparto viene fatto in una modalità che rispetta le normative, quindi percorsi dedicati, insomma tutto ciò che è previsto per ovviamente accogliere pazienti di una certa tipologia. A Trebbi Saci attualmente è attiva la lungodegenza, a breve dovrebbe riaprire anche il reparto di medicina, non appena si riuscirà a reperire il personale medico, risorsa questa carente. Nel momento in cui saranno individuati questi medici, più le figure di anestesisti di cui dovremo fornire l'ospedale, quindi già la direzione sta lavorando in questo senso, quindi c'è la volontà di attivare questa struttura, di attivare questa struttura in attuazione della sentenza. Ed ora la cronaca, oltre 400 mila euro in contatti, insieme a orologi, Rolex e gioielli del valore di oltre 200 mila euro, sono stati scoperti dalla polizia in un garage a Nichelino, siamo a Torino, il tesoro potrebbe essere collegato a Vittorio Raso, boss di Indrangheta arrestato nell'autunno del 2020, poi scarcerato ed ora latitante. Gli indizi raccolti dagli inquirenti lasciano pensare che gli arrestati facciano parte del gruppo di narcotrafficanti gestito proprio dal boss. Personaggio di spicco dell'Indrangheta calabrese, radicato a Torino, raso 43 anni, soprannominato esaurito, era stato arrestato a Barcellona dopo due anni di latitanza in seguito di una condanna di primo grado a 20 anni per traffico internazionale di droga per gli inquirenti. Le modalità di occultamento e di conservazione del denaro riscontrate anche in altri recenti arresti, nonché gli adesivi utilizzati sulle confezioni della droga per indicarne la provenienza rappresentano elementi sintomatici di una contiguità dei soggetti arrestati al gruppo di narcotrafficanti organizzato e diretto per l'appunto da raso. Due bar indicati come ritrovo di persone legate alla comunità organizzata locale sono stati chiusi per 15 giorni dai carabinieri a Doppido, ma a Mertina siamo nel Reggino, alla chiusura dei due locali, si è giunti dopo l'intensificazione dei controlli disposti in seguito ad eventi intimidatori avvenuti nel comune di Oppido nel 2021. In quelle circostanze proprio i carabinieri avevano attestato tra settembre e dicembre scorsi la presenza all'interno dei due esercizi commerciali di soggetti legati alla criminalità organizzata, locale e pregiudicati a vario titolo. Si è concluso a Catanzaro il processo contro politici ed amministratori scaturito da due procedimenti poi unificati, erano i procedimenti Catanzaropoli e Multopoli, cinque condanne e 40 assoluzioni, tra queste quella del sindaco. In carica Sergio Abramo. Cinque condanne, 40 assoluzioni, tra le quali quella del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e tre prescrizioni. Finisce così il processo scaturito dalla riunificazione dei procedimenti denominati Catanzaropoli e Multopoli. Nell'inchiesta erano coinvolti politici ed ex amministratori di Catanzaro accusati di presunti illeciti nella gestione amministrativa del comune e sull'annullamento di contravvenzioni per violazioni del codice della strada. Assolti, oltre al primo cittadino Sergio Abramo, l'ex assessore al personale Massimo Lomonaco e l'ex assessore alla pubblica istruzione Stefania Lo Giudice. Il tribunale ha condannato il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Antonio Salerno, a otto mesi, il tenente colonnello dei vigili urbani, Salvatore Tarantino, a tre anni, Luigi Veraldi, a otto mesi, antimo paternuosto, ad un anno. Condannato ad un anno e sei mesi, l'ex consigliere comunale regionale, Domenico Tallini. Non appena i miei legali potranno prendere visione delle motivazioni, commenta Mimmo Tallini, proporranno appello nella certezza che in secondo grado sarà riconosciuta la correttezza dei miei comportamenti. Sono stato assolto da tutti i reati più gravi, aggiunge Tallini, e che la condanna riguarda solo gli episodi relativi a due multe per divieto di sosta. Sono certo che nel grado di appello riuscirò a dimostrare l'infondatezza di tali accuse. A proposito di processi, l'ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è stato assolto dall'accusa di peculato che gli veniva contestata in relazione alla gestione dei rimborsi e per spese di rappresentanza proprio del Comune Bruzio. La sentenza è stata emessa dal Gup Claudio Appingitori a conclusione del processo con il rito abbreviato a carico di Occhiuto. Finalmente, dice l'ex sindaco, è stata stabilita la verità. La sentenza conferma che in dieci anni il mio operato è stato sempre limpido. E torniamo a Catanzaro, il capoluogo di Regione. In primavera andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale. C'è grande attenzione sul capoluogo di Regione. Ieri sera prima uscita pubblica dell'Avvocato e docente dell'Università Magna Grecia, Valerio Donato, che è candidato a sindaco che ha promosso un incontro con i cittadini. Una candidatura libera da vincoli ideologici e politici che ha come unico riferimento il superamento della condizione di difficoltà che vive la città. Così l'Avvocato e docente universitario Valerio Donato ha tracciato il percorso della sua candidatura a sindaco di Catanzaro nel corso della conferenza dei cittadini convocata da un mese dalla sua discesa in campo. Io in questo momento ho soltanto un'ideologia che mi manda avanti ed è la città. Tutte le altre mie componenti interiori e spirituali sono sospese. C'è soltanto un grande interesse contribuire allo sviluppo di questa città. C'è un'attenzione trasversale di cittadini, movimenti civici e partiti, ha spiegato Donato, intorno al progetto di rinascita che punta ad una ricostruzione della comunità attraverso la valorizzazione delle diverse vocazioni dei quartieri e una nuova visione sui temi delle infrastrutture, della mobilità, dei servizi, della cultura, della tutela, delle fasce deboli. Tra le mie candidature c'è un grande interesse, per il momento voi sapete che la formazione delle coalizioni è ancora prematura, ma c'è un grandissimo interesse da parte di liste di centro, di gruppi e anche di gran parte di pezzi di elettorato, diciamo così, sia di sinistra, sia di centro, sia di destra. Sia formazioni civiche, sia partiti politici. Ancora nessuna interlocuzione con il Partito Democratico da cui Donato proviene e che con i suoi organismi cittadini è orientato a sostenere la candidatura a sindaco di Nicola Fiorita. Io parlo con tutti, figuriamoci non parlo col Partito Democratico. Certamente io parlo con tutti, potrei mai negare una chiacchierata al segretario regionale del PD, sarebbe disdicevole. E noi ci occupiamo di ambiente e territorio, sono state inoltrate le prime osservazioni per il parco eolico offshore che si vorrebbe realizzare nel golfo di Squillace tra i comuni di Crotone e Monasterace, così come richiesto dal Ministero. Li ha presentato il Comune di Isola di Capo Rizzuto, osservazioni mirate soprattutto all'aspetto della deturpazione paesaggistica del territorio. Quattro pagine arricchite da varie motivazioni, tra cui anche i possibili danni che causerebbe al comparto pesca con conseguenti ripercussioni sociali. È chiaro che Isola Capo Rizzuto, fanno sapere dal Comune guidato da Menagrazia Wittemberg, addettono a questo parco eolico. Isola ha già dato e continua a dare tanto alle energie rinnovabili con centinaia di pale disseminate lungo tutto il territorio. Ed ora davvero una bella notizia. Vediamo questo servizio. La Dea Bendata si è fermata a Crotone. Un anonimo vincitore con un biglietto del Grattevincio, un maximiliardario del costo di 20 euro, ha vinto ben 5 milioni di euro. È successo nel bar Tabaccheria Gerace, che apre i battenti dal 1980 lungo via 25 aprile. Si tratta di una vincita straordinaria. La possibilità di beccare un premio così sostanzioso, pensate, è una ogni 9 milioni 300 mila biglietti. Insomma, una vera e propria botta di fortuna. Con ogni probabilità, il biglietto è stato acquistato tra Natale e Capodanno, ma la vincita è stata registrata sui sistemi nazionali informatici dei monopoli di Stato qualche giorno fa. La Dea Bendata si era già fermata in passato al Bar Gerace, facendo realizzare una vincita da mezzo milione di euro e poi, nei primi giorni di gennaio, con un premio da 20 mila euro collegato all'estrazione della Lotteria Italia. Impossibile individuare il fortunato vincitore, poiché, soprattutto nei periodi festivi, aumenta notevolmente la vendita di gratte e vinci e lotterie istantanee varie. Una bella situazione. Dopo la Lotteria Italia, che hanno vinto 20 mila euro, adesso proprio 5 milioni di euro con un gratte e vinci da 20. È una cosa bellissima. Speriamo che sia andata una persona che ha bisogno, che si ricordi di noi pure. Sicuramente sarà una persona che aveva preso il biglietto e l'aveva portato via. Poca gente lo gratta qua. Preferisce magari portarlo a casa e grattarlo. Non so proprio chi sia. Li spenderei, li conserverei prima e poi comprerei qualcosa di utile che mi serve. non so, una macchina, una casa, quel che mi serve. Auguri a questi che le ha vinto, che fanno una buona vita. 5 milioni ti cambiano la vita e compri. 5 milioni, speriamo che le ha vinto un crotonese o una crotonese, chi sia. La persona che l'ha vinto ha avuto una grande fortuna. È la prima volta che c'è una vincita del genere a Crotone. È beato chi l'ha vinto e sono contenta per quello che l'ha vinto e che così glieli dà alla famiglia, ai figli, ai nipoti. Sicuramente qualcosa l'avrei dato in beneficenza perché sono tantissimi e poi qualcosina anche per me. da Crotone a Reggio Calabria il 2023 sarà un anno importante. Saranno infatti 50 anni dal rinvenimento di due capolavori, le due statue dei bronzi di Riace e ci si sta organizzando in tal senso. Prende quota il lavoro sinergico promosso nel tavolo istituzionale per la celebrazione dei 50 anni dei bronzi di Riace. Nel corso dell'incontro tenutosi nella sala dei lampadari Italo Farcomatà a Palazzo San Giorgio sono emerse le diverse iniziative messe in campo dagli antipromotori. I lavori del tavolo che si intensificheranno nelle prossime settimane sono coordinati dalla città metropolitana in stretta sinergia con il Comune, la Direzione del Museo, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria. Il tempo stringe quindi da questo punto in poi non si può più scherzare bisogna rapidamente andare a formulare quello che sarà un programma definitivo di quello che andremo a realizzare da qui alle prossime settimane. Ci siamo già dati una prima data che dovrebbe essere entro fine febbraio quello di congelare un po' in linea di massima quello che sarà un manifesto di grandi eventi e per poi appunto lanciarlo in maniera ufficiale giorno 21 marzo. Ecco, questo è un po' quello che è venuto fuori stamattina da questo tavolo. Ovviamente noi continueremo a lavorare affinché possa essere il più ricco possibile questo manifesto di eventi provando ovviamente a caratterizzare sempre di più quello che è la vera essenza la vera anima del nostro territorio. Sarà un'importante occasione culturale ma che avrà anche ricadute economiche come dice l'assessore alle attività produttive. Pensiamo che questa occasione questo evento possa e debba essere un'opportunità per il territorio in termini di crescita economica. Per il direttore del Museo Nazionale di Reggio Calabria è importante il lavoro di squadra che si sta portando avanti. Tante forze che concretamente vogliono lavorare insieme in rete in sinergia per trasformare un anniversario in una grande opportunità di promozione e valorizzazione del territorio. Siamo qui siamo tutti quanti insieme per mettere insieme quelle che sono le nostre idee quelli che sono i nostri programmi quelli che sono gli eventi che vogliamo realizzare proprio per offrire ai calabresi e ai tanti turisti che vorranno raggiungerci il prossimo anno una grande iniziativa. Pagina dello spettacolo il grande teatro protagonista con l'Isistrata di Aristofane è andato in scena sia alla Mezzia Terme che a Catanzaro nell'ambito della stagione di Ama Calabria e in scena tra le altre una bravissima Amanda Sandrelli. Mettiamo il lutto sulla passera e la cenere sulle tette cenere lutto 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 doppia data in Calabria per Amanda Sandrelli che al teatro Grandinetti di La Mezzia Terme dal comunale di Catanzaro ha portato in scena l'Isistrata capolavoro di Aristofane con l'adattamento alla regia di Ugo Chiti attrice dotata di grande talento molto amata per Amanda Sandrelli parla una carriera luminosa fatta di traguardi importanti non solo teatro ma anche televisione e cinema gli uomini fanno la guerra perché loro nascono rissosi di suo già in pancia cominciano a guerreggiare l'opera tra le più importanti scritte dal commediografo greco nel 411 a.C. è ancora oggi di estrema attualità l'Isistrata racconta della società del suo tempo del dualismo tra uomini e donne che ancora oggi persiste una realtà che ci porta a credere di poter risolvere le diseguaglianze solo attraverso la violenza la corruzione lì dove l'irrazionalità umana la fa da padrone qui si fotte solo a una condizione prima trattate la pace con gli altri coglionazzi come voi l'Isistrata è sicuramente l'insensatezza della guerra di tutte le guerre della guerra in senso ampio ma anche della guerra fra uomini e donne della impossibilità di camminare uno a fianco all'altro e ovviamente visto che il mondo è comunque come dire lo stampo e il pensiero dominante a quello maschile e quindi l'Isistrata rivendica un pensiero femminile ma non lo rivendica come unico pensiero lo rivendica come pensiero complementare cioè dice ascoltateci non è vero che noi non sappiamo nulla della guerra non sappiamo nulla della politica lo spettacolo rientra nella stagione organizzata da Ama Calabria rassegna prestigiosa diretta da Francesca Antonio Pollice le difficoltà del periodo presente e invitiamo tutto il pubblico a partecipare alle nostre due stagioni che saranno realizzate con la continuità e secondo il calendario che è stato a suo tempo pubblicato Sport Calcio Serie B scenderanno in campo domani pomeriggio il Crotone e il Cosenza entrambe fuori casa gli squali affronteranno il Parma mentre i lupi saranno a Cittadella sentiamo cosa dice il tecnico rosso-blu ciccio modesto sappiamo che tipo di gara andiamo ad affrontare un Parma secondo me non solo con qualità tecniche qualità di giocatori comunque che non scopro io che conoscete un po' tutti un Parma sicuramente arrabbiato troveremo un Parma comunque che vuole fare risultati a tutti i costi noi dobbiamo capire percepire dove siamo in questo momento non possiamo non abbandonare il nostro credo nel senso che l'aggressività la voglia la poca magari meno tecnica rispetto a loro che possiamo avere però sfruttare le nostre armi naturalmente lo dobbiamo dimostrare domani in campo perché non vedo altre vie abbiamo bisogno di tutti perché da qua a fine campionato che è un mini campionato giorno di ritorno dove tutte le squadre comunque si rinforzano e vogliono comunque ottenere degli obiettivi noi cerchiamo di con tutte le nostre armi che abbiamo a disposizione di dare questa soddisfazione è normale che ogni partita per noi è sempre determinante ma non penso ad altro io penso al Parma pensiamo a quello che dobbiamo fare poi dopo viene tutto da sé però la predisposizione la voglia la determinazione vedo i ragazzi comunque che hanno voglia adesso di lavorare e sacrificarsi tutti insieme per le ultime di mercato il calcio a mercato come è noto si chiude l'anno il prossimo triplo colpo in entrata del Crotone dal Bari arriva in prestito Manuel Marras esterno di attacco il Bologna ha scambiato Rojas con Gianmarco Cangiano e la Lazio sta per dire sì al prestito di Bobby Adecaien ancora qualche ora poi per il ritorno di Golemic mentre Zanellato va alla spalla dopo il centrocampista Voza il Cosenza abbraccia l'attaccante Di Pardo mentre Capitan Angelo Corsi va alla Vibonese la regina la regina cerca un attaccante ha messo gli occhi sul ventenne argentino Orozco mentre la ribia e i regini sono in partenza direzione Pescara e Siena ed ora le previsioni del tempo come sempre a cura di trebimeteo.com Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo situazione per la giornata di domenica quando un possente campo di alta pressione sarà posizionato tra l'Atlantico la Francia e la penisola iberica abbraccerà però anche l'Italia con perturbazioni in marcia dalle isole britanniche dalla nord Europa sempre verso i Balcani nel dettaglio quindi la situazione per la giornata di domenica sull'Italia alta pressione cieli sereni o al più poco nuvolosi torneranno però delle nubi basse tra Sardegna Liguria e Toscana nel dettaglio possiamo osservare di fatti questa mappa che ci mostra delle nubi basse sull'alto versato il Tirrenico e la Sardegna poi in serata nubi bassi in arrivo anche sul Lazio altrove maggiori aperture del cielo un po' di sole al sud toccheremo anche i 14-15 gradi le nebbie di notte al primo mattino su parte della pianura padana dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo è tutto per questa edizione sono le 14.26 tra pochissimo e per questo vi invitiamo a restare sul 18 andrà in onda l'appuntamento con la mappa dei piaceri a cura di Paolo Giure e Gigi Grandinetti il TG torna stasera alle 20.30 arrivederci grazie a tutti